C'era una volta un asino che viveva in campagna. Egli amava molto fare gli scherzi e si burlava spesso degli altri animali. Un giorno, mentre passeggiava, vide a terra una pelle di leone e pensò, se la indosso, tutti gli altri animali mi temeranno e faranno tutto ciò che io vorrò. La prese allora e dopo averla messa sulle spalle andò verso la foresta. Tutti gli animali che incontrava si spaventavano e scappavano via velocemente, mentre l'asino rideva più non posso. Ad un certo punto vide in lontananza una volpe e disse tra sé e sé, voglio proprio vedere se è davvero furba come dicono, e si avvicinò. La volpe però lo guardava tranquilla e continuava a stare ferma. Ella infatti, poco prima, aveva sentito la sua voce e l'aveva quindi riconosciuto. L'asino, meravigliato, si fece allora più avanti e la volpe, scotendo la testa, esclamò dai su, lo ammetto, anch'io mi sarei spaventata davanti a te se non ti avessi sentito ragliare. E sghignazzando se ne andò, mentre il povero asino tornò verso casa con la coda tra le gambe. Cosa vuole insegnarci esopo con questa favola? Che le persone ignoranti, che si credono importanti per ciò che mostrano e ciò che hanno, appena aprono bocca si tradiscono. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.